Il nostro pianeta potrebbe essere in pericolo. Un giorno, un disastro naturale o provocato dall'uomo potrebbe rendere impossibile la vita sulla Terra. Se non potremo vivere qui, allora dove andremo? Ecco a voi il dottor Basil Singer, fisico e costruttore di robot. La sua missione? Trovare una nuova dimora per la specie umana. Pensate a fare una cosa così in tutta spaziale. Ricorrerà a quanto di meglio offre la scienza per identificare un luogo nello spazio dove poter vivere e quali pericoli e avventure dovranno affrontare i pionieri dello spazio.